Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo Prima di iniziare il video, infatti adesso è un fermo immagine Volevo avvisarvi che questo video sarà ridoppiato con il nuovo microfono che ci è arrivato per i doppiaggi Infatti lo volevamo provare, però facendo tutto insieme Comunque, partiamo Allora, andiamo a fare l'unboxing oggi di un monitor da 3,5 pollici Un monitor con batteria integrata, quindi tipo quelle che si usano sopra le telecamere per girare film e roba del genere E infatti l'ho voluto prendere per proprio questo motivo, soltanto che è di tipo Love Coast Il pacco ci è arrivato non un pacco di Amazon, anche se l'abbiamo acquistato su Amazon Adesso andiamo ad aprire un secondo il pacco, però come vedete è arrivato ben imballato Allora, andiamo ad aprire un secondo la scatola in questione Ok, attendiamo un secondo che, essendo che lo sto ridoppiando non mi ricordo mai quanto dura Bene, allora, andiamo ad aprire il pacco in questione Allora, all'interno troviamo questa altra scatola con una ricevuta Che, vabbè, è la ricevuta quella del costo Adesso vi faccio vedere anche quanto costa Ecco, come vedete il costo è di 39,90€, però è veramente molto bello e molto utile In quanto anche la batteria, che non vi ho detto prima, dura sulle 7-8 ore Quindi veramente tantissimo Soprattutto, adesso andiamo per ordine Allora, prima di tutto cosa troviamo all'interno? Il connettore per collegare la videocamera e il televisore Credo che sia un tester per connessioni Ah no, prima c'è un connettore Questo qui, il connettore BNC per videocamera e videosorveglianza Anche perché questo è un monitor a videosorveglianza Poi questa specie di chiave che praticamente è la connessione della DSL per i testi e i cavi Un cavo AV per collegare le telecamere in AVIN Un alimentato... cos'è sta merda? Non è un alimentatore per Italia, questo è un alimentatore per Inghilterra Non va bene, cazzarola porca vacca Ma hanno sbagliato per la prima volta l'alimentatore È di tipo americano, quindi non posso inserirlo Però come vediamo è di 5V 1A Quindi attraverso altri alimentatori potrei riuscire a ricavarci qualcosa Poi andiamo a prendere lo schermo in questione Lo schermo in questione, come ho detto, è veramente bello e ben assemblato È plasticoso, però è veramente robusto Sul lato troviamo diversi tipi di ingressi Però vi farò vedere tutto bene nella recensione Poi andiamo a vedere un po' un secondo il manuale In manuale ci sono le specifiche tecniche che non vi sto qua a delencare Anche perché sinceramente non ne vale la pena E basta Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao!